Musica Coronavirus, report settimanale di monitoraggio del Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, RT in calo a 1,27, aumentano i ricoveri, Sicilia terza per incidenza dei casi. I non vaccinati in testa a ricoveri e decessi, come se vincere dati dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 4 agosto. Incendi per il WWF Sicilia, si tratta di un circuito diabolico, occorre spezzare gli interessi, brucio, ottengo i finanziamenti, riforesto, ribrucio. Campofelice di Roccella, Pollina, Cefalu, Castelbuono sono i comuni protagonisti della rassegna Castelbuono Jazz Festival, giunta alla 24esima edizione. La Sicilia è presente a Tokyo anche in occasione della 26esima edizione dei giochi parolimpici estivi con Francesco Laversa, tecnico del settore lanci della FISPES. Buonasera, seconda edizione di Medianews, oggi è venerdì 13 agosto. Coronavirus, il report settimanale di monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. L'RT in calo a 1,27, aumentano i ricoveri, la Sicilia terza per incidenza dei casi. E' in calo l'indice RT in Italia, passato da 1,56 della scorsa settimana a 1,27 di questa. E' quanto emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Ancora in salita invece l'incidenza, passata da 68 casi settimanali per 100.000 abitanti a 73 per 100.000 abitanti. Sono la Sardegna con il 141,8, la Toscana con 129,9 e la Sicilia con 127,2, le tre regioni con i valori di incidenza più alto. L'attuale impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri è limitato. Tuttavia i tassi di occupazione e il numero di ricoverati in area medica e terapia intensiva sono in aumento. La trasmissibilità stimata sui soli casi ospedalizzati è sopra la soglia epidemica. Oltre al calo dell'RT si osserva, sottolinea il rapporto, una leggera diminuizione anche dell'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero che si mantiene tuttavia al di sopra della soglia epidemica. Nessuna regione e provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in leggero aumento al 4% con il numero di persone ricoverate in aumento. Il tasso di occupazione in area medica a livello nazionale aumenta al 5%. Nell'ultima settimana di monitoraggio 18 regioni risultano classificate a rischio moderato. Le restanti 3, Lazio e le province autonome di Bolzano e Trento, sono a rischio basso. 11 regioni riportano allerte di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza. Aumenta il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti aumenta leggermente. Aumenta anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi. Infine, il 21% è stato diagnosticato attraverso attività di screening. La circolazione della variante Delta è largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell'Unione Europea ed associata ad un aumento del numero dei nuovi casi di infezione anche in paesi con alta copertura vaccinale. Una più elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione, sottolinea il rapporto, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. È opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l'attenzione e applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale. I non vaccinati sono in testa a ricoveri e decessi, come si evince dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornati allo scorso 4 agosto. Il commissario per l'emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, invita a vaccinarsi. I non vaccinati in cima alle statistiche dei ricoveri, delle terapie intensive, dei nuovi contagi e dei decessi. Ascoltateci, lo diciamo per voi e per noi, proteggetevi, vaccinatevi. È l'appello del commissario per l'emergenza Covid di Palermo, Renato Costa. E per essere più chiari e non lasciare nulla al caso, il commissario fornisce delle schede che sono chiarissime. Chi non si vaccina è in cima a tutte le classifiche. Nel grafico, i non vaccinati di qualunque fascia d'età sono ai primi posti in tutte le categorie tra i nuovi positivi. Certo, ci sono anche quelli vaccinati e che hanno completato anche il secondo ciclo di vaccino, ma gli effetti su questi ultimi sono meno gravi sulla salute. Nel grafico ricoverati, anche in questo caso, la differenza tra i non vaccinati e i vaccinati è macroscopica. In ogni fascia d'età non c'è davvero gara tra quelli che hanno completato il ciclo di vaccinazioni e i non vaccinati. Del resto, è fondamentale non intasare gli ospedali per consentire ai malati di altre patologie, che sono tanti, di poter ricevere le giuste cure e le giuste attenzioni e trovare finalmente posti letto liberi. Non solo, ma riducendo i ricoveri con le nuove direttive, non si rischiano nuove chiusure e la Sicilia non rischierebbe, come in queste ultime settimane, di tornare in zona gialla. Nel grafico relativo alle terapie intensive, i valori sono a vantaggio di chi si è vaccinato. Come si vede dal grafico, in terapia intensiva ci vanno con maggiore frequenza i non vaccinati e qui, che una volta ricoverati in tanti, chiedono se sia possibile vaccinarsi. Ma quando si arriva a questi reparti, bisogna solo sperare che le cure facciano effetto. La strada per il vaccino doveva essere intrapresa prima, purtroppo le alte colonne più scure lasciano pochi margini sugli effetti positivi del vaccino nella popolazione. Nel grafico dei deceduti, anche in questo caso, non servono molte parole. Fino ai 50 anni muoiono solo i non vaccinati. Anche nelle altre fasce d'età, quelli più a rischio sono sempre i non vaccinati. La Sicilia ha superato ieri la soglia dei mille positivi, una situazione che destra preoccupazione e che aumenta gli appelli alla vaccinazione. Ieri c'è stato questo dato che bisogna verificare se non è un'anomalia statistica giornaliera, cosa che ogni tanto può capitare. Se uno guarda il grafico degli ultimi mesi, ogni tanto c'erano questi spike, si chiamano spike tecnicamente. Vedremo se oggi è confermato oppure se rimaniamo a quota mille. Se rimaniamo a quota mille, la situazione comincia a essere non grave, ma certamente più impegnativa rispetto alle settimane principali. I dati mostrano, oramai e giorni, lo vanno mostrando parecchie persone, che chi non si vaccina è molto più soggetto al rischio di ammalarsi e ammalarsi gravemente. Questo sta succedendo anche con le giovani generazioni. La gran parte delle persone che finiscono in terapia intensiva sono persone non vaccinate. Può capitare che c'è il singolo vaccinato, ma questo sta normalmente, stanno i fatti. I vaccini non sono progettati per evitare la positività, sono fatti per evitare le malattie gravi e i ricoveri in terapia intensiva. E questo è il loro mestiere. Chi non si vaccina è soggetto a questo rischio. È una situazione che sta succedendo in tutto il mondo. Nel sud degli Stati Uniti, dove i tassi di vaccinazione sono più bassi rispetto al resto degli Stati Uniti, ci sono stati degli Stati Uniti che sono in ginocchio. Per esempio la Louisiana è in grosse difficoltà, la Florida è in grosse difficoltà, il Texas è in grosse difficoltà. Va detto che potrebbe essere legato a un altro comportamento oltre questo, delle vaccinazioni, anche al fatto di rimanere in estate, dove ci sono temperature molto alte, all'interno di luoghi chiusi con le ventilazioni piuttosto scarse e fatte male. Questo è un altro punto fondamentale per la ripresa della scuola. Cioè noi possiamo ragionare di distanziamento, ma dobbiamo anche cominciare a ragionare di come ventilare i nostri locali per evitare che ci sia della trasmissione. Però il messaggio principale è che i vaccini abbassano. Oramai abbassano i tassi di malattia grave. E quindi il messaggio deve essere vacciniamoci per evitare il rischio di andare a finire in terapia intensiva. Questo è un dato di fatto ineludibile, inequivocabile, chiarissimo. Non c'è una ragione di crederci o non crederci. Sono tante le persone che ancora sono indecise. Allora, io dico le persone un po' più grandi. Cioè quelle della mia età. Pensate, tutti noi abbiamo avuto una zia, un'amica, un'amica della mamma che aveva avuto la poliomidite. Se a quelle persone, che poi magari è morta un po' prima rispetto al periodo naturale, perché comunque la poliomidite dava effetti a lungo periodo. Se voi pensate a quelle persone che sono state nel vostro vissuto e vi fate la domanda, ma se fosse arrivato prima il vaccino della poliomidite, quelle persone come avrebbero vissuto? Quelle persone avrebbero vissuto meglio, sarebbero state più felici e avrebbero condotto una vita normale. Poi hanno condotto una vita normale, per carità, ma l'hanno condotta con una disabilità. In quel caso sarebbe stata evitata. I vaccini fanno questo, evitano le conseguenze gravi e rendono più felici le persone. Questo secondo me è il messaggio che deve passare. Non c'è alcuna ragione di non fidarsi della scienza. Crediamoci. Parliamo di incendi. Per il WWF Sicilia si tratta di un circuito diabolico. Occorre spezzare gli interessi, dice l'Associazione Brucio, ottengo i finanziamenti, riforesto o ribrucio, una fonte inesauribile da sfruttare all'infinito. La puntualità e la sintonia con le condizioni meteoavverse, la contemporaneità, la metodicità, la professionalità e la spudorata consapevolezza di impunità rendono in dubbio il fatto che siamo dinanzi un'entità organizzata, cosciente e pensante, in grado di pianificare gli incendi a fronte di ben precisi obiettivi che vanno ricercati in disparati interessi, grandi e piccoli. La risposta per combattere gli incendi deve essere anch'essa pensata, pianificata e adeguata a tutte le possibili cause che li generano. Lo si legge in una nota della delegazione siciliana del WWF Italia. Occorre spazzare quell'opaca area di interessi illeciti e criminali che vede nel circuito diabolico brucio, ottengo i finanziamenti, riforesto e ribrucio. Una fonte inesauribile da sfruttare all'infinito. Gli incendi sono diventati più che mai una perversa leva per movimentare ingenti risorse economiche che attraverso le infinite campagne antincendio sono portatrici di tutele clientelari, di sprechi e di assistenzialismo, di uso emergenziale ed incontrollato delle risorse. Solo attraverso un cambiamento radicale del sistema forestale regionale si potranno perseguire questi obiettivi. Una struttura senza finalità politiche elettoralistiche e clientelari, ma dotata di alta professionalità e forte motivazione. È indispensabile, continua il WWF, anche la presenza dello Stato in tutte le sue forme per costituire un sistema di intelligenza e di controllo dei costi e delle attività illecite. Occorre inaspire il reato di incendio elevando la crimine di natura e tentato omicidio. Mentre la soluzione più efficace, che non elimina ma riduce il pericolo degli incendi, è la prevenzione e la manutenzione associata ad un costante controllo del territorio nell'immediato, e cioè già ora, quest'estate, riteniamo indispensabili per proteggere quanto rimasto le seguenti iniziative da parte della Regione, e cioè potenziare in modo urgente per quanto possibile il corpo forestale regionale in uomini e mezzi e sincronizzare le attività della protezione civile regionale con quelle del servizio antincendio boschivo e i corpi militari dello Stato. Intervenire presso i comuni con aiuti o in caso di inadempienze con diffide per metterli in grado di controllare più efficacemente il territorio e fare rispettare le ordinanze sugli incendi. Fare in modo che il catastro degli incendi venga aggiornato in tempo reale, sempre di concerto, fra Regione e Comuni, per poter applicare i provvedimenti di leggi esistenti in materia, valido o deterrente, questo per l'appicco di altri incendi. Rendersi sostenitrice dell'immediata formazione di nuclei interforze di polizia che con operazioni di intelligenza e di analisi dei fatti fin cui avvenuti possa almeno riuscire a ricostruire i singoli incendi e possibilmente scovare o quantomeno impensierire gli artefici. Dal Veneto alla Sicilia per spegnere le fiamme i volontari trevigiani nell'inferno delle Madonie, la storia di un gruppo di volontari veneti che hanno scelto di restare a Gangi con il sostegno dell'amministrazione comunale per aiutare il territorio a riprendersi dopo gli incendi. Qualche giorno fa sono arrivati nell'isola i volontari dell'ABAB di Valdobbiadene insieme all'Associazione Nazionale Alpinie ed altre squadre provenienti dalla provincia di Treviso, Verona e Belluno. Sono giunti in Sicilia per dare un supporto concreto ai vigili del fuoco, al corpo forestale, alla protezione civile e alle forze dell'ordine impegnati da settimane sul fronte del fuoco. Sono negli ultimi dieci giorni le fiamme hanno devastato ettari di vegetazione, prima tra Gangi e San Mauro Castelverde, poi tra Polizzi Generosa, Le Petralie e Geraci Siculo. Le fiamme hanno devastato i campi destinati al pascolo e all'intero raccolto cerealicolo. Ci sono dei danni a stalle, magazzini e abitazioni private e con effetti fin qui incalcolabili ad imprenditori agricoli, allevatori e al bestiame. E mentre la Sicilia brucia, c'è chi era in prima linea per spegnere gli incendi, per salvare cose e persone dalle fiamme. Sono i volontari dell'ANA che hanno scelto di restare a Gangi per dare una mano a spegnere gli incendi, ma anche per evitare che il fuoco raggiungesse quelle coltivazioni non toccate dalle fiamme. Noi siamo gente del nord, per carattere siamo persone riservate, ma qui abbiamo trovato la tipica accoglienza del sud, racconta Bepi Poletti, originario di Belluno e volontario dell'ANA. Tutti ci chiedono se abbiamo bisogno di qualcosa, se ci manca qualcosa. Siamo invece noi che vorremmo dare una mano a questa terra meravigliosa colpita da una piaga terribile come gli incendi. I volontari sono ospiti dell'amministrazione comunale di Gangi e il loro apporto in questi giorni è stato cruciale per evitare che le fiamme si propagassero anche nelle contrade non colpite, ma soprattutto per cercare di controllare il territorio insieme ai NOIS, ovvero al nucleo operativo Interforse Sicilia. L'amministrazione comunale da oltre dieci giorni è impegnata a dare un sostegno concreto a tutti gli imprenditori e agli agricoltori della zona che hanno subito danni a causa delle fiamme. Secondo una prima stima sono oltre 500 aziende ricadenti tra i comuni di Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana e Sottana, Castellucio e Polizzi Generosa ad aver subito danni ingenti. Ringrazio i volontari veneti che insieme ai nostri ragazzi hanno operato con grandissima professionalità, afferma il primo cittadino di Gangi e presidente del GAL Madonie, Francesco Migliazzo. Ringrazio la protezione civile siciliana per il supporto che ci ha dato. Con la delegazione veneta si è creata una bella sinergia e siamo felici che siano nostri ospiti. Noi siamo impegnati per la ricostruzione dei danni e per ottenere quanto prima i ristori da destinare alle aziende zootecniche. Covid, l'allarme dei sindacati, raffica di disdette per paura che la Sicilia passi in zona gialla. Con l'ombra della zona gialla si prospettano a raffica di disdette. I sindacati Filcams, CGL, Fisascattacis e Wiltux lanciano l'allarme e stimano un 20% di rinunce tra coloro che si apprestano a viaggiare in Sicilia. Le segreterie regionali in una nota inviata al governo regionale si dicono seriamente preoccupate per le segnalazioni che arrivano dagli albergatori sulle disdette che già stanno arrivando da parte di quei turisti che vanno prenotato dal 23 agosto in poi, data dalla quale la Sicilia potrebbe passare in zona gialla. I sindacati chiedono al governo di intervenire al fine di non compromettere irreversibilmente la stagione turistica siciliana che dopo la ripartenza stava iniziando da qualche settimana a registrare segnali di ripresa. Quanto sta accadendo, aggiungono i sindacati, fa temere la prematura conclusione della stagione con le inevitabili nefaste ripercussioni sulle attività ricettive e non solo, soprattutto sulla tenuta dei livelli occupazionali. Secondo i sindacati di categoria, infatti, la situazione di incertezza avrebbe gravi ripercussioni anche sulla situazione occupazionale in particolare sugli stagionali. A pagarne le conseguenze di questa fine prematura dell'estate, dicono le tre segreterie, sono soprattutto i precari i lavoratori che attendono la stagione turistica per poter trovare nuovamente occupazione. I sindacati chiedono quindi al presidente Musumeci di poter intervenire con i mezzi che ritiene più opportuni al fine di fare chiarezza sulle limitazioni che l'ingresso in zona gialla comporterebbe anche per i possessori di Green Pass. Filcams, Fisaskat e Wiltux chiedono inoltre di chiarire che il Green Pass non può essere richiesto nelle menze aziendali evitando interpretazioni distorte della norma che si riferisce ai pubblici esercizi e non può certo riferirsi alle menze aziendali. Resta intesa la necessità di implementare i controlli nei confronti dei datori di lavoro affinché non venga meno l'osservanza delle misure di prevenzione al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Cronaca, i carabinieri di Milazzo hanno individuato i tre giovani autori dell'aggressione avvenuta la scorsa domenica di notte nel centro cittadino. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e dalla Procura per i minori. Sono stati individuati dai carabinieri della compagnia di Milazzo i tre giovani presunti autori dell'aggressione avvenuta la scorsa domenica notte nel centro cittadino. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto guidata dal procuratore dottore Emanuele Crescenti e della Procura per i minori guidata dal procuratore dottore Andrea Pagano ha permesso di identificare un 18enne un 17enne e un 16enne tutti i deferiti in stato di libertà. I tre giovani devono rispondere del reato di lesioni personali. L'attività investigativa ha avuto origine quando a luna di notte tra domenica e lunedì la centrale operativa della compagnia di Milazzo ha ricevuto alcune segnalazioni per un'aggressione in corso in via Francesco Crispi centro della movita milazzese per i più giovani. I militari della sezione radiomobile della compagnia di Milazzo giunti sul posto hanno notato e soccorso due giovani feriti successivamente accompagnati presso il pronto soccorso dell'ospedale Fogliani e hanno raccolto le prime testimonianze. I successivi accertamenti condotti dai militari della stazione e carabinieri di Milazzo sviluppati attraverso l'escussione di diversi testimoni presenti nonché nel monitoraggio dei social network in uso ai più giovani hanno permesso di individuare tre ragazzi originari di Barcellona Pozzo di Gotto i quali avrebbero aggredito con calci e pugni le vittime per futili motivi. In particolare i tre si sarebbero scagliati secondo l'accusa contro una delle vittime dopo aver richiesto se avesse guardato una ragazza del proprio gruppo. Ricevuta risposta negativa lo avrebbero colpito subito con un pugno scagliandosi poi contro un suo amico intervenuto per difenderlo. Dall'inizio dell'estate sono diversi giovani denunciati dai carabinieri con il coordinamento dell'autorità giudiziaria ritenuti responsabili di alcune aggressioni e risse avvenute nella zona della Movida Milazzese. Voltiamo pagina è stato girato in primavera a Palermo il primo lungometraggio del regista Guglielmo Brancato tra i protagonisti attori emergenti siciliani in autunno la distribuzione La mia più grande paura è sempre stata realizzare di essere uno sporco ed insulso pedone al servizio di un dio burattinaio Un dramma psicologico nella Sicilia di oggi è questo semaforo rosso il primo cortometraggio del regista palermitano Guglielmo Brancato continui flashback protagonisti del viaggio eroico di Enea studente universitario di fisica che dopo aver perso i genitori decide di vivere in casa della sua fidanzata del liceo Maria quest'ultima sottomette Enea psicologicamente costringendola a vivere nel rispetto del suo codice di valori Sottomettemi miseramente alle tue regole alle tue di paura Si articola così la narrazione delle finte emozioni che recita quotidianamente lo studente e di quelle vere che deve reprimere per rimanere nel suo personaggio come l'amore per Nadia ragazza che incontra casualmente davanti un semaforo rosso il protagonista in perenne confusione tra sogno e realtà metterà in discussione il concetto stesso di libertà sentendosi incatenato dalla pressione sociale e dai limiti della natura umana incapace di fargli immaginare un mondo diverso da quello in cui esiste la regia di Guglielmo Brancato dirige tre attori esordienti Paolo Catalano Federica Palmeri e Cecilia Minutoli il lungometraggio è stato girato in quattro settimane la scorsa primavera a Palermo e sarà distribuito in autunno semaforo rosso perché la parte più divertente di una vita che va a tremmila forse è fermarsi ogni tanto e provare quella leggera noia quell'attesa che come si d'arte insegna alla fine non porta a nulla se non la ricerca della strada stessa semaforo rosso alla fine è l'attesa di Enea che è il protagonista che attende che qualcosa possa accadere nella sua vita qualcosa di sorprendente ma che in realtà poi si scopre non accada ed è lì che deve cercare di scoprire un po' il sapore autentico della vita tema del film un triangolo amoroso sì il triangolo amoroso è più che altro un mezzo un po' apparente ecco per raccontare qualcosa che io tenevo a dire a chi andrà a vedere il film in realtà la storia è circa l'amore la vita e la morte questo è più che altro del triangolo che mi piace e per me i tre personaggi tutti e tre rappresentano uno di queste tre parole per cui sì il triangolo amoroso è presente anche invadente però vuole raccontare una metafora in realtà gli attori sono tutti emergenti ma anche tutte le maestranze all'interno della troupe della produzione sono emergenti Alessio Calestani che è appunto il produttore ha avuto la lungimirante idea di puntare su ragazzi del sud che volevano lavorare volevano produrre contenuti fidandosi di me della mia prima regia diciamo ha voluto spingere molto su di noi Che musica hai scelto per questo lungometraggio? Ma questo è un film come parlavo prima è un film d'amore di amore con conflitto pieno comunque di dubbi di incertezze per cui sì ci sarà tanto romanticismo ci saranno tanti momenti in cui emozionarsi in cui piange per questo che si sente in trappola che è una via di fuga però appunto proprio per questo motivo il film è pieno di visioni di incubi di deliri di questo personaggio che non sa più veramente cosa fare nella sua vita non riesce a riconoscere la realtà per cui sarà anche pieno di tanti momenti appunto di musica elettronica che serve a completamente diciamo si sbarellare quello che è la percezione dello spettatore che viene sopraffatto da queste incubi da queste visioni che ne ha che sia un solo o un incubo lasciate che io la veda Campo Felice di Roccella Pollina Cefalu Castelbuono sono i comuni protagonisti della rassegna Castelbuono Jazz Festival giunta alla 24esima edizione il Castelbuono Jazz Festival torna con la sua 24esima edizione ad allietare l'estate della provincia palermitana con una serie di concerti in programma sino al 22 agosto dislocati tra i borghi di Campo Felice di Roccella Castelbuono Cefalu e Pollina oltre ai concerti che vedranno esibirsi i grandi nomi del panorama musicale Jazz si terranno corsi di perfezionamento per jazzisti nelle giornate dal 16 al 21 agosto con esibizione finale a Castelbuono sul palco grande di Piazza Castello per la serata del 22 il Castelbuono Jazz Festival è diretto da Angelo Butere promosso dagli assessorati al turismo e beni culturali della regione siciliana dall'Assemblea regionale siciliana dei comuni di Castelbuono Pollina e Campo Felice di Roccella dal museo Mandralisca di Cefalu Enit e l'ente Parco delle Madonie il Castelbuono Jazz Festival è festival jazz di alto rilievo ricco di eventi con un palinsesto fatto di artisti importantissimi quest'anno festeggia il suo 24esimo anno di edizione di vita e l'anno prossimo festeggeremo proprio il 25esimo anno direttore artistico Angelo Butera Parliamo di questa masterclass che ti vede protagonista come articolata? Le masterclass sono una bella occasione per i ragazzi che si cimentano ci sono anche dei professionisti che partecipano a un bando e all'interno delle masterclass vengono eseguiti dei brani che sono arrangiati da noi docenti altri miei colleghi brevissimi sono Giacomo Tantillo e Claudio Giambruno e ci occuperemo di musica di insieme strumento e canto jazz la bellezza e la masterclass sta nel fatto che oltre ad organizzarci durante il pomeriggio tutte le varie prove ci incontreremo poi in questo bellissimo concerto di fine percorso che sarà il 22 agosto a Piazza Castello dove i ragazzi avranno l'opportunità di esibirsi sul palco del Castelbuono Jazz Festival per le mie performance offrirò dei concerti dove farò il 15 diciamo un excursus di jazz e colonne sonore mentre il 16 che mi troverò sul palco con Mario Caminita che sarà da conduttore e mi farà da spalla farò un concerto insieme a Giuseppe Milici Alessandro Presti Antonio Zarcone Giuseppe Sinforini e Gabrieo Bevilacqua sarà un concerto dal titolo dal Molo Santa Lucia alla Quinta Strada quindi si canterà il jazz la musica italiana e un po' racconteremo la storia degli immigrati americani La Sicilia presenta a Tog anche in occasione della 26esima edizione dei giochi paralimpici estivi che si terranno dal 24 al 5 dal 24 agosto al 5 di settembre a rappresentare l'isola nell'atletica leggera sarà Francesco Laversa giovanissimo tecnico del settore lanci della FISPES la federazione italiana sport pariolimpici e sperimentali Le medaglie arriveranno non sappiamo da quella disciplina ma sicuramente saranno tante visto che i nostri colleghi olimpici hanno fatto benissimo in tutte le specialità in tutte le discipline adesso naturalmente tocca a noi che è il lavoro più difficile partiremo il 18 andremo a Sendai prima del trasferimento a Tokyo per iniziare gli allenamenti e poi le gare dal 27 al 5 settembre Lei è l'unico siciliano che sarà a Tokyo a questi giochi una bella responsabilità anche una bella sfida una bella sfida che ho iniziato nel 2012 per puro caso ma è stato anche voluto questo percorso con diversi ragazzi che ho allenato che hanno vinto il titolo nazionale poi nel 2017 la nomina del direttore tecnico Vincenzo Luminuco e da lì una scalata verso le manifestazioni più importanti internazionali e adesso il sogno naturalmente di tutti gli atleti di tutti i tecnici quale i giochi paralimpici Dopo le Olimpiadi che si sono concluse qualche giorno fa in cui l'Italia ha fatto il record di medaglie con 40 c'è un po' di pressione anche per la vostra Olimpiade Ci si aspetta tanto da noi visto che i nostri colleghi hanno fatto benissimo con 40 medaglie toccando anche il record di tutti i tempi Noi naturalmente vogliamo superare i nostri record faremo il possibile faremo il massimo e naturalmente ti fate per noi e seguiteci Ed è tutto grazie per essere stati con noi vi auguro un buon proseguimento di serata Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti